La fedeltà qui con Mattia Ricatto, uomo partita di Fossano Pro Villafranca, oggi 1-1-1 intenso, difficile, ti chiedo, anche con i tuoi interventi sei riuscito poi a mantenere quello che è stato il pareggio finale, ti chiedo se è più un punto guadagnato adesso, ad oggi, oppure è un'occasione sprecata questa? Ma secondo me ad oggi è come ci stiamo impiando in settimana, tutti i giorni, sono due punti persi perché abbiamo tutti gli episodi che ci rancontro e abbiamo tante sfortune, sperando che sia il periodo perché come oggi abbiamo controllato benissimo la partita, a parer mio, ma non siamo riusciti soltanto a concludere come già è successo scorsa domenica contro la Luese, sperando che nelle prossime settimane, lavorando, ci venga un po' tutto a nostro favore. Tra l'altro, con l'annullato, traversa, poi all'ultima occasione viglietta con lo copo di testa, è mancato forse giusto il gol quest'oggi perché alla fine la prestazione, come anche nelle scorse tre giornate, è stata ottima. Sì, assolutamente, no, di fatti tutte le partite fino ad ora, compreso Saluzzo, che non abbiamo portato neanche a un punto a casa, sono state tutte le partite, comunque abbiamo sempre avuto la palla noi, abbiamo dominato noi, è ovvio rischiando a volte, ma è normale comunque nel calcio, come si vince tutti insieme, si soffre anche tutti insieme, ma come oggi non c'è niente da dire perché abbiamo giocato noi, soltanto a buttare la palla dentro contro la Luese. Ti chiedo ancora questo, due interventi ottimi i tuoi, uno nel primo tempo, uno nel secondo, uno quasi con i piedi, poi sei riuscito a impedire alla Pro di avvicinarsi, ti chiedo dal tuo punto di vista, dalla tua postazione, com'è stato affrontare questo Villafranca, anche l'attacco della squadra stigiana? No, sicuramente queste partite qua, soprattutto quando fai la partita, sono le partite in cui ancora di più la difesa, il portiere, devono stare più concentrate possibili perché un episodio, un tiro, può cambiarti la partita, puoi perderla, e quindi sicuramente la testa su questo deve sempre essere pronta, attaccata a 90 minuti, perché basta un episodio per perderla. Grazie mille, Matti. Grazie. Grazie.